mamma mia che noia sta partita era meglio che andava a dormire molto molto prima intenditori di noia e di zero ritmo e non buonasera da imparare sono incazzato ma allo stesso tempo non posso pretendere più di tanto perché la juventus in fase di costruzione giustamente motta dice non so perché i giocatori li vuole mettere piano 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 sicuramente il cupo me che non è allenato ancora non c'è schemi con cesao meravigliavo con cesao guarda sul tubo diciamo minchiate con cesao il nuovo messi a questo voglio dire nuovo messi tanto con cesao è fortissimo infatti l'unica cosa che meno che mi stavo per addormentare mi sono detto con cesao con cesao meravigliavo perché ragazzi quello è un folletto quello abbiamo ho capito che giocherà titolare per forza però dica ad ammotta ma mettono prima gli ultimi 20 minuti non c'è 90 minuti sulle gambe non c'è le sue gambe ducas luis non c'è 90 minuti sulle gambe e non c'è la musica vlalu c'è una pippa e lì avete ragione ragazzi chi vlalu ce l'ha vuole fare non sono la prima donna due palle avuto e due palle sfrigolate guarda come hai potuto dire che quello è top play ragazzi senza attaccante non va a nessuna parte chi può alla fiesta mente chi l'ha 82 esi ci leviamo a vlau ci mette a nico conza ma nico conza se l'attaccante non è attaccante ragazzi però ripeto bisogna lavorarci perché secondo me perché manca anche turam e cenno quindi turam quando c'è da caraluzzi cupo mexi con cesao nico conzales a sinistra anche il ragazzi abbiamo troppo bombato non mi pare questo grande giocatore numero 10 troppo pesante si è bravo bravino però poi nelle grandi partite si deve vedere questo quindi ripeto motta motta non ti giudico stasera perché però ma fare un favore non appena questi qua giocheranno titolari perché questi 90 minuti giocheranno per forse loro titolari perché non voglio più vedere un centro campo con locatelli e fagioli locatelli e fagioli non sono buoni manco proprio in là in lega pro col picerno non sono buoni ma col picerno hai capito motta locatelli e fagioli fino a 66 e sono attenuti proprio due scarsoni a centro campo ragazzi ecco perché locatelli ha detto ragazzi aspetta vediamo è buonissimo a meno locatelli ha detto datemi il beneficio del dubbio perché lì mi è scarsa che molto l'ho valorizzata ma comunque la partita tutto sommato è una partita noiosa senza erano zero emozioni 0 a 0 pareggio è giusto anche se abbiamo fatto 51 possesso padre che di 49 ma i tiri in porto quali erano 6 e 6 quindi non è che il pareggio è giusto ripeto mi aspettavo di vincere questa venta ero convinto di vincere la venta tipo 3 a 0 ero convinto perché la venta c'era in palla cosa ho visto una juventus purtroppo lenta molto macchinosa verticalizzavano soltanto la parte di contesa quando entrato e basta poi ripeto ripeto non si conoscono ragazzi quando poi i campi tutti tutti poi ci vuole il tempo però ripeto no no non siamo non siamo scarsi siamo più forti l'anno scorso poi entrato mckenne pure si vede che l'ho passato dopo chi l'ha appena cometata cosa comunque ripeto l'unico è contestato poi la difesa bremer e gatti monumentali niente capale è scannato che capale ripeto sa attaccare ma non sa difendere infatti capale non so se gioca di solare capale attenzione caluno mi sembra anche non so caluno efficientare ripeto a roma erano più si vedeva da un miglio che non erano più forti il pareggio è stato giusto ma quando attaccava la juventus si vedeva che purtroppo ragazzi non sapendo ancora i schemi giocatori e quindi la coppa media ha fatto due tre diciamo assist e chi dura e vlavlic era così dice non ha sbrigato la palla non ci è arrivato quindi è una serie di cose che ci vuole del tempo il tempo vediamo darà ragione penso a me perché la juventus non è scarsa io li voglio vedere ducas luiz turam quando quando mi chiaro si è imbottonato e nico gonzalez con cesao cupo me che io voglio voglio vedere questi 90 minuti sulle gambe perché già quando sono entrati la partita era cambiata si vedeva attenzione però non abbiamo fatto molto pressing quindi pareggio giusto perché la romanza la roma quando noi volevamo attaccare la roma ci pressava bene quindi quindi stavolta stavolta da nico si madre de rossi ha avuto la meglio nel senso che ha boccato le fasce capito rice aspetta e quindi ci pressava quando aveva visto che c'era la palla soprattutto con fagioli e l'altro e lo cadete ci pressava molto la roma attenzione ragazzi e poi al momento alla fine al momento ci fu un grosso la dice mamma mia ma noi ce l'ha uomo tigre la perché la a momenti a momenti anche la preme che ci passa la palla malamenta a momenti io pensavo vedere che chi segna a roma e chi poi era ingiusto che viengeva a roma comunque ripeto zero emozioni zero niente aspettiamo la vera juventus che non è questa o meglio in fase di rodaggio siamo in fase di rodaggio ragazzi non possiamo dire a differenza dell'inter che l'inter vince già in fase di rodaggio tratta tratta che divido 4 a 0 rimangono un genna avanti ragazzi turam per esempio dell'inter è più forte tipo la l'inter è più forte ragazzi abbiamo all'attacco siamo senza attaccanti e questo ci costerà soprattutto con le grandi squadre quindi questo la mia sentenza ragazzi niente sono arrivato un poco arrabbiato perché volevo vinti ero perché a roma scarsa abbiamo battuto città del roma che le mostruose la roma è scarsa però ripeto se tu avevi un attaccante tipo come turam tu la portava a casa anche un a zero col tuo muso quello che sia la portava a casa il picchietto e la parola sfiggurata di Vlaueric ma ripeto l'evoluzione è stata ripeto lente e macchinosa questo devo dire va bene ci rifaremo la prossima volta paziente ciao